Simone, la salvezza matematica quest'oggi è sfumata proprio sulla sirena, l'ultimo secondo, l'ultima azione? Purtroppo sì, abbiamo preso gola l'ultimo secondo, peccato perché visti i risultati delle avversarie saremmo stati salvi. Adesso ci mettiamo sotto in settimana e andremo a Sanremo con la possibilità di avere due risultati su tre disposizioni e vediamo di salvarci domenica prossima. È comunque tutto nelle vostre mani perché come dicevi tu, il vostro ultimo avversario è proprio quello con cui dovrete giocarvi la salvezza diretta. Sì, sarà diciamo uno spareggio anticipato con la speranza di non farne altri due, sempre costeremo tanta.